Assessore, stasera una serata speciale per Arezzo e per il Cacit. Una serata bellissima nel nostro bellissimo stadio di solidarietà, di sport, di spettacolo anche, grazie all'idea del presidente Massimo Ansemi di Arezzo Calcio Femminile, della disponibilità della squadra e della Nazionale Attori, che appunto fa questo di mestiere, diciamo, in Gira d'Italia, per giocare a calcio, per portare un sorriso e un po' di aiuto a realtà come ad esempio il nostro Cacit, che è reduce da due anni senza mercatini e quindi è importante dare una mano al nostro comitato contro i tumori. Una buona risposta del pubblico, il presidente Anselmi ci ha detto che ci sono stati molti imprenditori che hanno voluto contribuire versando direttamente, quindi un buon contributo appunto per il comitato in un momento così difficile. Come sempre Arezzo quando c'è da dare una mano per cause importanti c'è, Arezzo risponde, quindi il pubblico c'era, il pubblico ha risposto, ma come sappiamo ci sono sempre tanti imprenditori nella nostra città che sono pronti a dare una mano quando c'è bisogno e quindi sono sicuro che l'incasso che sarà devoluto al Calcit sarà buono. Tra l'altro si riparta anche con i mercatini perché domenica c'è il mercatino a Ceciliano, quindi vicino tra l'altro alla sede di Arezzo Calcio Femminile, forse, chissà, è una coincidenza che ha portato bene.